Però quello che voglio dire è che non può essere correlato e slegato da un fatto di un problema legato all'Islam, l'Islam è quello più estremo, che non può essere solo legato al fatto che ci siano dei bombardamenti in Medio Oriente. È una dinamica e una situazione molto più larga e non affrontarla e non ammetterlo penso che non ci aiuterà a risolvere assolutamente questi problemi. Va messa in campo una serie di politiche anche in quello che sono i nostri comuni, nelle nostre nazioni e nelle nostre città, perché altrimenti se derubrichiamo tutto con il fatto delle parole che usiamo, perché spesso abbiamo l'abitudine di cambiare una parola con un'altra e pensiamo di risolvere il problema, ma il problema non si risolve così e non farlo concretamente, temo che aumenteranno sempre di più questi attentati.